Il successo dei già sperimentati concerti dal balcone di Casa Rossini si moltiplica per 39 nell'anno di Pesaro Capitale della Cultura. 39 quante le opere rossiniane che il Rossini Opera Festival proporrà per 39 sabati dal 24 febbraio al 16 novembre. Si chiama Playlist Rossini, un concerto lungo un anno il suggestivo progetto che ogni sabato avvolgerà di aree rossiniane la via del centro pesarese intitolata Alcigno. Un anno importante in cui il festival fa un grande sforzo per onorare degnamente questa eccezionale ricorrenza. Quindi non solo ci sarà un festival, come più volte annunciato, molto più robusto del solito con tanti appuntamenti in più, ma anche questo progetto che dopo l'anno del 2023 in cui il Rossini Opera Festival ha completato il catalogo rossiniano proponendo tutti i 39 titoli rossiniani, quest'anno li riproponiamo tutti nello stesso anno con questa formula particolarmente interessante, intrigante, dei concerti dal balcone. Una formula che ci consente di arrivare anche a un pubblico nuovo, diverso da quello nostro solito, perché è gratuito innanzitutto, si fa in strada, quindi tante persone vengono appositamente, ma tante anche si accorgono di questo evento che arricchirà il programma di Capitale della Cultura. 39 settimane, 39 opere di Rossini. Vogliamo fare un percorso ogni sabato, in un orario che d'inverno si può anche sopportare bene, cioè verso le 6 del pomeriggio, ripercorrendo questi 39 titoli con dei ragazzi dell'Accademia, ex ragazzi, ex accademici, che parteciperanno a volte in due, a volte in tre, a ogni concerto, ognuno dedicato a un titolo rossiniano. Saranno 30 ragazzi che hanno accettato di partecipare e penso che sarà una cosa interessante. Logicamente di ogni opera ci sono dei concertati, dei duetti, dei terzetti che è impossibile fare, però diciamo che abbiamo scelto di ogni titolo dei pezzi particolari che saranno apprezzati. Si comincia durante le settimane rossiniane che celebrano il 232esimo compleanno di Gioachino Rossini. Si chiude a novembre quando si commemorerà il 156esimo anniversario della sua scomparsa. Ad aprire il concerto lungo un anno sarà l'opera Demetrio Polibio, interpretata da Andrea Nigno e Omar Ceparolli. Primo appuntamento 24 febbraio alle 18, mentre tutti i concerti successivi si terranno alle 18.30.